Ciao a tutti, IndieCraft è una rubrica nella quale vi proporremo delle mini video recensioni di videogiochi indie e non solo disponibili sulle varie piattaforme digitali, per darvi il nostro parere e consigliarvi o sconsigliarvi il loro acquisto. I giochi con gameplay alla Worms non sono una novità nel mondo indie, ma Mayan Death Robots ha quella marcia in più che gli permette di mettersi in mostra e di essere adatto a tutti coloro che sono alla ricerca di un titolo divertente da giocare su PC, in multiplayer locale e con altri tre amici. C'è anche però una campagna single player che vi terrà impegnati per qualche ora e vi permetterà di affinare le vostre armi e tecniche per sconfiggere gli avversari. Non dovrete soltanto limitarvi a farli esplodere, lanciandogli addosso un mix tra le quattro opzioni d'attacco di cui dispone ogni robot selezionabile, ma anche distruggere il nucleo del territorio nemico, cosa che aggiunge alcuni elementi strategici ad un gameplay che rimane comunque principalmente incentrato sull'azione. La grafica unisce suggestioni tecnologico post apocalittiche come il network televisivo in stile l'implacabile che narra le varie sfide e l'ampia presenza di metallo, a strutture che ricordano le ambientazioni Maya, come suggerisce il titolo. Un insieme di stili molto interessante che caratterizza ulteriormente il gioco. Trovate Mayan Death Robots su Steam a un prezzo di circa 15 euro?